Sabina Croce, presidente di Entella nel Cuore, una associazione che è vicina al territorio e fa parte a pieno titolo di quello che sono le iniziative di Chiavari nel Cuore, un evento che il 9 novembre si terrà su questa ribalta, la ribalta del Teatro Cantero e neanche per la prima volta. No, questa è la nostra terza edizione, quarta. Abbiamo sempre devoluto gli incassi di questo, gli utili di questo spettacolo all'ospedale pediatrico Gaslini, in particolare l'Entella nel Cuore ha adottato da tanti anni il reparto di neurochirurgia, al quale devolve tutta la sua attività di raccolta fondi solidale, grazie anche al contributo fondamentale e imprescindibile dell'attività solidale delle famiglie del nostro settore giovanile, che è il vero cuore solidale, la radice solidale della nostra attività. Non a caso imbambiamo i bambini per i bambini. Noi cerchiamo ogni anno, ogni volta che organizziamo uno spettacolo, di coinvolgere artisti locali, di far lavorare maestranze locali, perché questo rientra anche nella nostra politica di sostegno del territorio. Ma cerchiamo ogni anno di elevare la qualità dell'offerta per offrire al nostro pubblico, al nostro generoso pubblico, ci auguriamo, un'offerta veramente importante. Quest'anno abbiamo Musica per il Gaslini, un grande spettacolo di blues, che rappresenta la prima tappa italiana del tour europeo di Tony Coleman e Enrico Paneto Quintet. Qui abbiamo una star del blues internazionale, Tony Coleman, grande batterista, batterista di B.B. King e responsabile musicale di tutti i tour di B.B. King, che ha suonato con tutte le grandi star del blues. È un batterista ma è anche un vocalist e soprattutto un grande showman. E Enrico Paneto, che è una nostra gloria locale, è un ragazzo che è cresciuto qui, è di Levi, che ha sempre aiutato anche noi con la nostra attività solidale e però, pur nella ritrosia che lo contraddistingue, che è un po' tipica del genius loci, del noi non siamo molto espansivi, si è pur sempre conquistato un posto di rilievo veramente nel contesto del blues internazionale. Pianista, miglior pianista dell'anno nel 2015 e nel 2016, secondo la rivista specialistica Blues Feelings. Ed è quindi uno spettacolo che noi ci pregiamo di offrire, non solo ai chiavaresi che generosamente vorranno venire e contribuire per ripagarli della loro generosità, ma anche speriamo che sia uno spettacolo che attiri di per sé un pubblico che viene perché attratto dal genere, perché attratto proprio dallo spettacolo in sé. Questo rappresenta nelle nostre intenzioni una crescita anche da un punto di vista dell'offerta di spettacolo che mettiamo in atto. Quindi il 9 novembre alle ore 21 al Cantero aspetto qui tutti quelli che vorranno godere di questo spettacolo e tutti quelli che vorranno contribuire a questa raccolta fondi perché il Gaslini è una gloria nostra, locale, che tutto il mondo ci invidia, che ha un disperato bisogno di sostegno perché i tempi sono difficilissimi e che noi non possiamo fare a meno di sostenere perché chiunque abbia bambini, nipotini, non può non rendersi conto di quanto sia importante la salute di questi bimbi e la ricerca per guarire le malattie di questi bimbi. Quindi mentre vediamo che la prevendita e mettiamo in sovraimpressione quali sono le indicazioni per prenotarsi, per essere qui al Cantero, vorrei chiudere dicendo che Cantero, Virtusentella e Gaslini, tre realtà imprescindibili del territorio che si danno la mano. Si danno la mano, si cercano di darsi una mano e tutte in quante lavorano per lo stesso scopo. Il benessere di tutti. Il benessere di tutti.